Buongiorno alla seconda opera di Milano Party Siamo insieme all'unità per mostrare il nostro supporto a Cindy e voglio dire che con questa occasione vogliamo annunciare anche che in primavera o estate, perché ancora non si sa bene, uscirà il nuovo disco di Cindy Loper che sarà un disco blues tra l'altro, quindi una sperimentazione ulteriore da parte della nostra cantante preferita e spero che conoscete anche voi Quindi benvenuti, ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti